È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'1 bis punto 10, Gregori, che chiede di intervenire. Prego, onorevole Gregori. Grazie, Presidente. Con questo emendamento noi chiediamo sostanzialmente delle risorse per delle assunzioni. Allora, questa è una proposta concreta che ovviamente il Governo respinge. Il Governo va avanti a spot perché sembra, e noi ce lo auguriamo, che le assunzioni avvengano con la legge finanziaria. Allora, a questo punto io ritiro l'emendamento, lo trasformo in ordine del giorno, augurandomi però che il Governo mantenga l'impegno nella finanziaria per le nuove assunzioni. Grazie. Allora, questo era l'ultimo emendamento che è stato ritirato. Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma, dopo l'esame degli ordini del giorno, si procederà direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87,5 del Regolamento. Passiamo agli ordini del giorno. Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibile, ai sensi dell'articolo 89,1 del Regolamento, in quanto del tutto estraneo rispetto al contenuto del provvedimento, l'ordine del giorno dall'osso numero 32, relativo alla composizione della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Tale ordine del giorno riproduce il contenuto dell'articolo aggiuntivo Ciprini 1.05, dichiarato inammissibile per l'esame in Assemblea. Se nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Sottosegretaria Bellanova, prego alla parola. Uno, Bossa. Grazie, Presidente. Allora, uno, favorevole. Due, Agostinelli. Favorevole. Tre, Bonafede. Favorevole. Quattro, Fico. Favorevole. Cinque, Dincà. Favorevole. Sei, Nuti. Favorevole. Sette, Tofalo. Favorevole. Otto, Grillo. Favorevole. Nove, Villa Rosa. Favorevole. Dieci, Crippa. Favorevole. Undici, Alberti. Favorevole. Dodici, Duva. Favorevole. Tredici, Businarolo. Favorevole. Quattordici, Mantero. Favorevole. Quindici, Pisano. Favorevole. Sedici, Corda. Favorevole. Diciasette, Daga. Favorevole. Diciotto, Ferraresi. Favorevole. Diciannove, Sorial. Favorevole. Venti, Colonnese. Favorevole. Ventuno, Giordano Silvia. Favorevole. Ventidue, Battelli. Favorevole. Ventitre, Brugnerotto. Favorevole. Ventiquattro, Frusone. Favorevole. Venticinque, Petraroli. Favorevole. Ventisei, Cancelleri. Favorevole. Favorevole. Ventisette, Cominardi. Favorevole. Ventotto, Liuzzi. Favorevole. Ventinove, Labate. Favorevole. Trenta, Ciprini. Favorevole. Trentuno, Tripiedi. Favorevole.